le cosiddette scatole cinesi sono scatole che contengono altre scatole si parte da una scatola molto grande la quale contiene una scatola più piccola la quale a sua volta contiene un'altra scatola minore di se stessa la quale a sua volta contiene un'altra scatola più piccina la quale contiene a sua volta un'altra scatola ancora più piccola e così via fino a giungere ad una scatola piccolissima la quale se vista attentamente contiene un'altra serie di piccole piccole scatole fino ad arrivare a un punto arturo ascoltava l'autoradio quando passò la nuova canzone di mina arturo la ascoltò trattenendo il fiato perché la voce di mina lo ha sempre emozionato e poi pensò chiamo subito claudio claudio così ne parliamo ma claudio non c'è più e così arturo accostò l'automobile e pianse come sa piangere arturo cioè con rabbia vista appannata e pochissime lacrime non so neanche capace a piangere penso arturo ma sono bravissimo anche questa volta a vedermi da fuori come se io dovessi tenere d'occhio me stesso in qualsiasi emozione io stia vivendo e così anche questa volta arturo si è visto seduto in auto come se fosse al di fuori con la barba lunga sempre più bianca i capelli arruffati pallido con qualche ruga in più altre volte arturo non riconosceva neanche più la sua voce come se il pilota automatico del suo cervello decidesse che lui dovesse sempre perdersi e non c'era verso che lo potesse lasciare una volta tranquillo mi ha raccontato che gli capitasse nei lunghi viaggi con gli amici a un certo punto non era più lui o meglio non aveva più alcuna possibilità di riconoscersi e così con la scusa di fare un riposino chiudeva gli occhi e cercava disperatamente di calmare il terribile sgomento che lo prendeva e di resettare la sua testa in preda alla confusione più totale facile la psichiatria quando l'ha definito un depersonalizzato facile mettere etichette a una persona che soffre facile un giudizio affrettato scientifico scrupoloso per carità ma anche il giudizio e depersonalizzante perché chi non ha provato queste sensazioni può solo immaginare il dolore che avesse arturo ogni volta che non trovava più se stesso quando alla radio passava una canzone di mina per lui era inevitabile pensare al suo amico e immediatamente la mente correva all'immagine dell'immagine dell'amico scomparso ed era inevitabile per lui scoppiare a piangere ed era altrettanto inevitabile per lui vedersi al di fuori per me arturo non è un malato di mente non ha una molecola in meno per me arturo è un sensitivo che riesce a vedersi al di fuori e riesce ad essere obiettivo con se stesso vedendosi al di fuori gli psichiatri lo hanno visitato possono solo immaginare di vedere loro stessi ma hanno così tanta paura di vedere loro stessi così hanno preferito chiudere arturo perché è pericoloso no no non la mettiamo in manicomio la tratteniamo un po con noi così si riposa così magari poi riprende coscienza eppure la coscienza di arturo è quella della scatola cinese che sa di contenere altre scatole cinesi e la coscienza cosmica che sa di contenere altri cosmi e quella di una mente evoluta che fa paura perché sa vedersi al di fuori peccato solo che questa cosa per lui è stata tante volte fonte di paura fino a che non ne ha preso familiarità è diventato il suo domino al contrario come lo chiama lui in realtà è il vero domino perché da una scatola più grande che contiene infinite più piccole fino all'essenza fino al punto solo un tre virgolette pazzo può esserne pienamente cosciente e vivere la sua vita veramente perché sa vederla veramente ciao